L'imbarcazione dell'Associazione Umanitaria ha traccato a mezzogiorno di oggi, martedì 28 marzo, presso il porto di Ortona, in provincia di Chieti. A bordo 161 migranti recuperati nei giorni scorsi in tre diverse operazioni messe a segno nel Mediterraneo, tratti in salvo dai volontari 26 donne, di cui tre incinte, 74 uomini, 52 minori non accompagnati e 9 minori accompagnati. Diverse le nazionalità, la maggior parte proviene dall'Etiopia, dalla costa d'Avorio e dalla Guinea Conakry, ma ci sono anche persone provenienti dalla Somalia, dalla Nigeria, dal Sudan, dal Camerun, dal Chad, dal Mali, dal Gambia, dal Burkina Faso e dall'Eritrea. Dei 161 migranti, come reso noto a Lanza dal vice prefetto di Chieti Gianluca Braga, che ha coordinato le operazioni di accoglienza, 20 sono destinati al Molise, 40 verranno dislocati nelle Marche e la maggior parte rimarrà in Abruzzo, a disporlo il Ministero dell'Interno. Le attività di sbarco sono state seguite dagli uomini della Guardia Costiera, dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia. Dopo i primi ristori è stata avviata l'assistenza sanitaria, con priorità a donne in gravidanza, infermi e bambini. Come sottolineato a Lanza da Roberto Maccaroni, responsabile sanitario per i soccorsi in mare di Emergency, a bordo non si sono verificate emergenze, sebbene si siano registrati casi di disidratazione, debilitazione, dolori addominali, febbri e malattie cutanee. Successivamente è stato predisposto il trasferimento presso il Palazzetto dello Sport di Villa Caldari, presso il quale saranno effettuate le operazioni di identificazione e fotosegnalazione ricadenti nell'attività di Polizia di Frontiera, prima di raggiungere i centri d'accoglienza di destinazione. La presenza di tanti bambini a bordo, non accompagnati, decine, e in questo caso anche bambini piccoli, ha rimarcato Maccaroni, dà la cifra della disperazione di queste persone che mettono i loro figli sulle barche, purché se ne vadano da quei paesi.